Il Salva Ambiente Emulsio È semplice, è una ricarica concentrata ed equivale ad un'intera bottiglia di detergente. Noi vendiamo solo la parte concentrata. Perché pagare tutto il resto? Il Salva Ambiente Emulsio si scioglie nell'acqua. Semplice, no? Un bel aiuto contro lo sporco più difficile per i tuoi pavimenti e per i tuoi vetri. Il Salva Ambiente Emulsio. Il tuo pulito di sempre. Finalmente ecco conveniente. Grazie a tutti.